Fin da ragazzo ero un avventuriero, mi piaceva viaggiare ma allo stesso tempo mi piaceva scrivere poi è arrivato internet e ha cambiato il meccanismo, il sistema, i metodi di tutto questo in modo sotto alcuni punti di vista più vantaggiosi, in altri svantaggioso il web sicuramente è un mezzo utile, è utile per tanti motivi quali per fare shopping a basso costo, è utile per vendere il proprio usato è utile per le proprie ricerche e lavore, quindi per darsi opportunità poi ovviamente queste opportunità che il web offre, alcune sono positive, altre negative io considero il web valido al 70% facendo il giornalista sicuramente all'inizio con i miei due premi in letteratura e uno in poesia si trattava solo di scrivere, cosa che magari attualmente faccio come autore ma non è più tanto quello quanto la diffusione della comunicazione sul web che ha cambiato in effetti la mia vita in questo mio profilo lavoro si apprendere delle tecniche nuove, comunicare in modo differente parliamo della possibilità di comunicare con tutto il mondo in modo facile, veloce ed economico questo secondo me è il punto principale un altro punto invece che troviamo negativo di internet è il fattore truffa economico commerciale nel senso che ogni giorno almeno io devo tutelarmi dalle potenziali truffe ossia persone che cercano di inviarmi email convincendomi che mi regaleranno dei soldi invece sono soldi frutto di evasione fiscale, sono soldi ricettati, rubati e così via truffe perché se vado a comprare un articolo su un sito non affidabile è comunque un punto negativo perché molte volte mi viene inviato un qualcosa che non è di mia richiesta o diverso da quello che io avevo specificato o addirittura non mi viene inviato nulla altro fattore negativo di internet ho interruttato a trovare la possibilità di lavorare anziché con i privati nel settore pubblico inizialmente pensavo fosse un vantaggio dopo ho scoperto invece che non tanto per colpa della burocrazia lenta della mia nazione ma per colpa di alcune figure politiche quali sindaci che poi nella vita reale spesso sono altro che avvocati c'è molto assenteismo perché sono imprenditori che hanno altre attività private non possono dedicarsi al lavoratore, alla trattativa, al bene della società al bene della comunità per i quali lavorano e sono pagati in modo aggiato e questo è un fattore negativo perché internet mi ha distrutto la mia convinzione che il politico, l'avvocato, il sindaco erano le persone più oneste del mondo e spesso rifiutano invece al contrario la possibilità di aiutare la società rifiutano la possibilità di far risparmiare soldi al proprio comune rifiutano la forza perché non hanno le capacità di valutazione e hanno fra l'altro un modo di dialogare pessimo spesso nella mia regione parlano il dialetto spesso dicono no a te o a quell'altra persona o a quell'altro individuo o a quell'altro terzo non posso comprare, non posso portare avanti il tuo progetto perché devo favoreggiare il mio amico che è un qualcosa di sbagliato e poco professionale internet mi ha fatto notare che non è vero quindi che il politico è la figura più per bene che parla bene, che aiuta la società ma il politico è chi vede il proprio comodo tranne per le poche funzioni basilari indispensabili per il comune spesso perché mosso dal poco tempo che ha dovendo valutare la sua attività commerciale e imprenditoriale si purtroppo sviluppano un ruolo privato a favore di loro stessi e poi si rapportano col pubblico in un modo poco professionale e poco adeguato non fossi mai andato su internet a trovarmi un annuncio di lavoro con facilità di possibilità di trattativa commerciale con il settore pubblico e le istituzioni pubbliche non avrei scoperto sicuramente che il sindaco o il vice sindaco in realtà sono delle figure che si appropriano dei meriti altrui che siano interni al comune o esterni al comune che spesso rifiutano di fare il bene del comune e della società anche se probabilmente non se ne rendono conto magari perché hanno la difficoltà nel loro ingresso alla burocrazia che si ritrovano davanti il giornalismo denuncia nello specifico tutti questi fatti della possibilità di guardare bene con occhio giudice perché il sindaco in realtà non è una figura poi tanto per bene il giornalismo e la comunicazione denunciano il criminale che compie un reato in un modo di diffusione più vasto rispetto a quello che era prima dell'esistenza del web perché se un omicidio prima lo si vedeva solo per dire in televisione ad oggi invece lo si vede anche su 10, 15, 20, 30 siti e testate giornalistiche importanti e meno che ne spangono la notizia come quando un grosso brand compie illeciti e ne è nella bufera il web invece ci aiuta a notare che se io vado o altre 10 persone vanno a fare la denuncia in una caserma per 50 euro, 70 euro nessuno ci prende in considerazione anche perché la legge dice non ti conviene fare la causa perché hai delle spese di tribunale che una volta non c'era ecco, internet ha cambiato la mia vita in che modo? mi dà la possibilità di studiare la legge che io ho studiato già per tre anni a scuola in modo più vasto in tanti settori in norme e dettagli specifici e mi fa notare allo stesso tempo che non è spesso giusto quello che appare o quello che è la carica apparente di una persona ma che è giusto quello che in realtà c'è dietro tutto e questo sicuramente per me è un fattore straordinariamente positivo che il web ha donato sia la cultura e la comunicazione che li ha diffuse in modo magnifico è l'unico fattore negativo forse del web che non ha un'efficienza continuativa ovunque nel senso che la fibra ottica non c'è dappertutto nel senso che in alcuni punti internet viaggia in modo molto lento sicuramente internet non aiuta molto a caricare video di qualità a casa mia dove ho 5-6 MB di internet mi conviene di più per caricare sul web dei video lasciando stare magari la riproduzione su DVD o su Blu-ray mi conviene assolutamente magari andare in un altro luogo a pagamento dove posso caricare dei video su alcuni siti per motivi di lavoro in modo più rapido perché il mio download, il mio upload è lento credo che comunque ognuno abbia le proprie motivazioni e le proprie esperienze che ci portano a poter esprimere un giudizio ciao internet è una realtà internet è uno strumento molto utile, molto valido sicuramente ha cambiato la vita mia come quella di tante altre persone che ci siamo dovuti adeguare a questo nuovo sistema internet è comunicazione internet è mal di testa internet è truffa internet è risparmio economico e shopping internet è tutela il web è comunicazione è utilizzo e aiuto di ricerca lavoro quindi io credo che comunque da una scala da 1 a 100 internet sia stato valido al 70% di conseguenza è un vantaggio ed è un'utilità come filmmaker che è uno dei miei 2-3 lavori sicuramente avrei avuto maggiore fortuna se fossi stato in possesso di una fibrotica che invece nella mia zona non è presente forse perché è in metà della nazione si punta su zone centrali non si punta molto sulle zone periferiche fattore invece totalmente negativo del web è sicuramente alcuni tipi di truffe le classiche truffe nere, le truffe nigeriane quali sono? sono quelle truffe dove ti dicono ciao sono l'ereditiera di un grosso politico di un grosso imprenditore rimasto morto ho un'eredità di 5-6 milioni di dollari cavolo dico io ho un altro qualsiasi fesso magari che sta dall'altra parte sono diventato fortunato perché questa signorina vuole dividersi con me la sua eredità e magari pure sposarmi invece in realtà tutto questo non è vero loro poi non fanno altro che immettere soldi frutto di atti hackers e di evasione fiscale di conto corrente in conto corrente sul mio come poi su altri conto correnti li fanno rimbalzare per capire se sono già tracciati se non sono tracciati chi sono io, un'altra persona, il primo li lasciano un 30% sul nostro conto corrente il resto li tengono per loro che hanno fatto questa, ecco, rapina quest'atto di truffa come lo vogliamo definire dopodiché nessuna donna bella mostrata in foto si sposerà con noi dopodiché oltre a questo rischiamo un'indagine per favoreggiamento a chissà quale impreso chissà quale persona fisica criminale altra truffa la truffa del perete altro fattore negativo ciao caro sono il reverendo vivo nella repubblica del begin ho un certificato di tesoro e di eredità di una mia rifugiata profuga figlia del proprietario di una miniera di diamanti ha un'eredità di 5 milioni ne darebbe a te 120 mila se l'aiuti a lasciare l'Africa dove è a rischio vita come precedentemente la sua famiglia uccisa uno con un povero sciocco si commuove in realtà ti fanno firmare un accredito di 120 euro perché la transizione di quei 120 mila euro ovviamente è a tuo carico in realtà ti hanno truffato i 120 mila euro tramite un accredito che fai in contanti con Western Union con FedEx Online e così via al nominativo di una persona di loro fiducia che volendo in tale modo potresti smascherare o che magari non puoi perché magari è una persona defunta al quale è stato sottratti il documento è defunta da pochi giorni e quindi ancora non ci sono in quei luoghi tutte le dichiarazioni o magari non tramava altro che diversi retroscena alquanto amari per il povero malcapitale beh diciamo che internet ha cambiato la mia vita e non di poco mi ha aiutato a pubblicizzare la mia immagine mi ha aiutato il web con i suoi strumenti a poter essere un produttore musicale cinematografico indipendente mi ha aiutato a sviluppare dei metodi nuovi di comunicazione e mi ha aiutato ad avere tanti vantaggi sui miei acquisti però sicuramente come tante realtà il web ha i suoi pro e i suoi contro perché il web offre una miriade a mio avviso di opportunità e molte volte io mi devo tutelare da quelle negative da che mondo in mondo però è sempre stato così anche nella vita reale quindi di conseguenza non credo abbia colpe il web ma che sia nel complesso uno strumento valido ed efficiente che è fortuna di pochi però sicuramente di aiuto alla nostra vita quotidiana quindi più utilità che non negatività è un gioco per bambini però sicuramente ha cambiato la vita di molti di noi in alcuni meglio in altri in peggio tranne la controindicazione dei mal di testa dovute a posture da sedie di computer per il resto credo che sia un elemento molto valido per fare shopping perché si risparmia molto un elemento valido per vendere il proprio usato un elemento molto valido per comunicare un elemento utilissimo per trovare lavoro anche se ancora non è compreso a pieno c'è chi dubita della truffa e così via però internet sicuramente è uno strumento molto efficiente e molto utile alla società che poi aiuta a far crollare l'industria del cinema della musica non è colpa del web ma dei pirati ma anche nella vita reale ci sono stati sempre di questi problemi la mia vita l'ha cambiata diciamo l'ha lasciata invariata ho iniziato a utilizzare sistemi tecnologici abituati al web ho iniziato a fare il redattore online per varie riviste la mia vita internet bella ha cambiata perché 4 ore al giorno sto lì fra l'altro diciamo che più di quelle non riesco perché se a 28 anni riuscivo a stare 10 ore al giorno al computer anche per giocare a poker per vincere i 10 euro al giorno visto che ero bravo anche in quello sicuramente sono dell'opinione che comunque stare su internet porti dei mal di testa a cause e posture che non sono indifferenze perché internet ha permesso di comunicare in modo migliore più rapido ed efficiente con gli altri anche se credo ancora internet e il web in genere non siano poi tanto diffusi e compresi perché molte persone ancora vedono in internet la truffa la poca affidabilità e così via se pensiamo anche al lavoro stesso per me è uno strumento valido lo utilizzo volentieri mi aiuta a trovare lavoro a trovare clienti e ad avere quindi una rendita mensile se poi ovviamente mi piace viaggiare mi piace spostarmi quindi un giorno sì un giorno no sono sempre comunque lontano da casa 100, 200, 400 km beh io credo che internet non sia questo sia non sia natura non sia aria da respirare non sia campagna non sia movimento però da un altro punto di vista ha facilitato la vita di noi tutti nel fattore comunicazione nelle ricerche di lavoro e quindi sicuramente uno strumento molto valido utile apprezzato anche se ancora non è molto compreso se c'è chi ha delle rendite anche non indifferenti grazie a internet o io stesso mi trovo il lavoro tramite internet ci sto al computer a navigare 4 ore al giorno un giorno sì un giorno no anche se poi mi piace viaggiare e quindi di conseguenza poi il lavoro lo sviluppo a 100, 200 km da casa però penalizzato internet l'industria cinematografica è devido in genere perché c'è tanto free tanta pirapeteria che è un male anche nel settore musicale ovviamente crea dipendenze bisogna starne attenti di conseguenza che se ci riempie ogni giorno internet di tante opportunità di cui il 70% sono inutili anche se poi c'è un 30% che economicamente e comunicativamente è molto valido aiuta a pensare di più le persone anche se secondo me non bisogna scordarsi mai la natura l'area fisico anche sugli acquisti è molto efficiente con alcuni web perché ci dà la possibilità di risparmiare dei soldi su beni non tanto di prima necessità ma su quello che è tecnologia su quello che è seconda necessità fin da ragazzo io ero un avventuriero mi piaceva viaggiare mi piaceva stare a contatto con la natura internet mi ha impedito questo fattori straordinari e positivi del web sicuramente sono due il primo è che riusciamo a comunicare ad oggi grazie al web in tutto il mondo con facilità il secondo è che il web ci aiuta a comunicare oltre che con persone fisiche le nostre idee la nostra creatività tante altre cose in modo molto rapido e molto più diffuso ad oggi esistono invece tanti siti tante testate giornalistiche che ci fanno notare il clamore della falsa tonica che può indossare il sindaco che può indossare l'avvocato che può indossare il dottore che può indossare il prete l'attore negativo di internet resta sempre il punto che si rischiano delle truffe a me capita per esempio spesso che mi mandano delle email che se non sbaglio sono chiamate truffe nigeriane e truffe nere che non sono altro che quelle truffe dove ti dicono ah io sono orfano orfana di un grosso politico di un grosso imprenditore mio padre mia madre sono stati uccisi in una guerra civile in Africa in una guerra civile nel Sud America in realtà tutto questo non è vero ma il loro scopo qual è? ah sono ereditiero dicono sono ereditiera aiutami per favore a riuscire a riavere la mia eredità un povero allocco dice cavolo questa è un'eredità questo ha un'eredità di 3-4 milioni di dollari e mi sta dicendo che il 20-30% se l'aiuto a immettere sul mio conto corrente quei soldi sono miei attenzione però perché quei soldi sono soldi ricettati quindi di conseguenza poi la polizia postale o altri addetti ai controlli ovviamente andranno a indagare il povero fesso che se fatti immettere 500-1500 euro per volto addirittura in un'unica transizione milioni di dollari o milioni di euro come volte volte invece sono hacker stessi magari che hanno rubato sui conti correnti bancari di qualcuno e li fanno rimbalzare da conto a conto ne trattiene una percentuale fino a quando loro hanno la garanzia che possono prendere un parziale di quello che hanno rubato sul conto corrente di qualcuno per poterlo tenere per loro stessi questo sicuramente è uno dei fattori più negativi del web perché non è assolutamente positivo questo genere di proposte economiche così allettanti che in realtà hanno dei retrosceni assurdi oppure per esempio c'è la truffa del prete che dice se mi aiuti perché qui ho una rifugiata o un rifugiato che ha tutti questi soldi come ricompensa ti darò 120.000 euro però in cambio devi pagare tu la transizione tu all'occo che stai da questa parte del computer e del monitor di 120 euro in realtà tu paghi una transizione che non è una vera transizione che è un accredito che fai con FedEx Western Union o altri sistemi attualmente disponibili online se non leggi bene la voce che fra l'altro molte volte è in lingua inglese ecco che hai una truffa di 120 euro che ti viene rifilata fai una denuncia ovviamente la polizia postale ne prende atto ma per 120 euro come per 70 euro 90 euro ovviamente in Italia fra l'altro con le franchigie alle stelle non può inoltrare una causa internazionale o nazionale visto che poi magari si scopre che l'IP era di un server in Italia che si è finto all'estero e così via però sicuramente internet è stata un'utilità che è la fortuna di chi lo sa utilizzare in modo concreto di chi sa trarne vantaggi e profitti a me stesso lo ammetto mi aiuta ad avere da lavorare beh che dire fin da ragazzo ero un avventuriero mi piaceva sapere tutto di tutti ed è per quello che ho intrapreso la strada del giornalista e del reporter poi diciamo che nel corso degli anni ho maturato esperienza con la scrittura ho vinto premi nazionali sono stato blogger online ho scritto per riviste siti famosi di politica di calcio di sport di varie materie ecco e poi adesso attualmente sono caporedattore di due riviste online come molti ecco mi piace viaggiare perché mi piace stare in movimento oltre che stare seduta a una scrivania buonasera buona giornata